Emma Marrone felice dopo le critiche, il lieto evento Emma insieme ai suoi genitori, la foto commuove il web. . Emma Marrone è ritornata a sorridere dopo la recente bufera social che si era battuta su di lei, Emma è infatti apparsa oggi raggiante e felice insieme ai suoi genitori, in una foto che ha caricato poche ore fa sul suo profilo Instagram. . . La cantante Salentina ha inoltre scritto nella didascalia dello scatto semplicemente una parola, noi, e ha aggiunto alla fine un cuore. . 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